Benvenuti al nostro nuovo videogiornale. Beatificazione del Venerabile Carlo Cutis. Si aprono il 7 luglio le iscrizioni per partecipare alla cerimonia di beatificazione del Venerabile Carlo Cutis che si svolgerà sabato 10 ottobre 2020 nella Basilica Papale di San Francesco alle ore 16 e sarà presieduta dal Cardinale Giovanni Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Oltre ai posti all'interno della Basilica sono previsti maxischermo all'esterno e comunque anche per poter accedere alle aree esterne sarà necessario il pass. Per poter partecipare alla cerimonia è obbligatorio registrarsi sul sito www.assisisantuariodellaspogliazione.com alla sezione Carlo Cutis. Le iscrizioni che rimarranno aperte fino ad esaurimento posti e nel rispetto delle normative anti-covid vanno effettuate sia per gli individuali che per i gruppi attraverso gli specifici moduli. A coloro che si iscriveranno saranno poi comunicati entro il mese di agosto il posto loro assegnato, il pass d'ingresso e i modi di partecipazione. Per gli operatori della comunicazione ci sarà una sezione ad hoc con le modalità di accreditamento. A breve sarà reso pubblico il programma degli eventi e momenti collaterali considerando che dal 1 al 17 ottobre sarà possibile venerare il corpo di Carlo Cutis presso il Santuario della Spogliazione, Piazza Vescovado, dove ha sepolto. Per informazioni e chiarimenti si può comunque inviare una e-mail all'indirizzo L'appuntamento è per sabato 11 luglio dalle ore 20 e 30 a mezzanotte. Sarà una serata durante la quale le chiese assisane, Cattedrale di San Rufino, Chiesa Nuova, Santa Maria Sopra Minerva, Basilica di San Francesco, Abbazia di San Pietro e Basilica di Santa Maria degli Angeli, rimarranno aperte per permettere visite, preghiere e riflessioni individuali, oltre a una serie di eventi organizzati in diversi orari e siti. Ripartiamo dalla luce delle nostre chiese, dalla bellezza delle nostre basiliche, dal messaggio dei nostri santuari, per dare un segnale di speranza dopo questo lungo periodo di buio del coronavirus. Sono queste le parole del Padre Vescovo, di intesa con i custodi delle due basiliche papali, Padre Mauro Gambetti e Padre Giuseppe Renda, e di concerto con tutti i parroci e guardiani delle chiese e santuari assisani, con i quali è stata condivisa l'idea dell'iniziativa Assisi Notte di Luce. Per il programma dettagliato consultare il sito www.diocesiassisi.it Azione Cattolica Ragazzi La Presidente dell'Azione Cattolica Diocesana, insieme al Consiglio, ha presentato in curia la lettera che l'Associazione intende inviare a tutti i parroci della diocesi e ai responsabili parrocchiali della catechesi, in cui offre il proprio servizio e si rende disponibile ad un incontro personale per parlare della nuova sfida educativa ed umana che ci attende come Chiesa. In allegato alla lettera verrà inviato l'organigramma dei consiglieri di Azione Cattolica con i contatti, recapiti e parrocchie di appartenenza a cui coloro che sono interessati possono fare riferimento. A questa lettera seguirà un secondo contatto propositivo a cura dell'equipo formazione che verrà esplicitato nei prossimi mesi. Festa della Madonna dell'Oliva Anche quest'anno è stata celebrata la festa che ha richiamato i devoti della città a partecipare al triduo di preghiere e alla Santa Messa celebrata dal parroco Don Cesare Provenzi. La chiesa della Madonna dell'Oliva dedicata alla Vergine Maria, a seguito della sua apparizione d'un ragazzino il 2 luglio del 1399, dopo il passaggio della Compagnia dei Bianchi ad Assisi, si erge a poca distanza dalle mura della città serafica. Provincia Serafica Immacolata Concezione Venerdì 3 luglio, nel corso dell'Assemblea che si è tenuta a Foligno, è stata eretta la provincia Serafica Immacolata Concezione dei Frati Minori Cappuccini, che comprende le regioni Abruzzo, Lazio e Umbria. Fra Matteo Siro è il nuovo ministro provinciale, fra Marco Gaballo è il vicario. I consiglieri sono fra Carmine Ranieri, fra Simone Calvarese, fra Franco Riti Rossi e fra Giovanni Brunzini. A Palazzo di Assisi, padri rogazionisti in festa. È stata celebrata una triplice festa per la comunità dei padri rogazionisti che vivono a Palazzo di Assisi. Padre Mario Filippone, parroco di Palazzo, padre Paolo Bertapelle, parroco delle parrocchie della Montagna Sisana, e padre Luigi Amato, cappellano dell'ospedale di Assisi. Il 1 luglio è il centro e madre di tutte le feste della congregazione religiosa fondata da Sant'Annibale Maria di Francia. È il 42esimo anniversario dell'ordinazione presbiteriale di padre Mario Salvatore Filippone e l'ammissione al prenoviziato del giovane aspirante rogazionista Giuseppe Alberti. Dopo l'adorazione eucaristica personale sono seguite le celebrazioni dei Vespri Solenni, l'adorazione comunitaria, la preghiera per le vocazioni e la santa messa presieduta dal superiore provinciale padre Gaetano Lorusso e concelebrata da dieci confratelli provenienti dalle comunità di Firenze e Morlupo. Gresta Nocera Umbra Anche le parrocchie Assunzione di Maria e San Giovenale, insieme ai frati carmelitani messaggeri dello Spirito Santo, organizzano il Grest Estivo. Nel Palazzo Vescovile di Nocera Umbra si svolgono le tante attività alle quali partecipano per due settimane 32 ragazzi e 34 animatori. Incontro giovani a Cannara Nella parrocchia di San Matteo Apostolo a Cannara è iniziato il ritiro dei ragazzi del dopocresima che si terrà fino alla terza settimana di luglio. I giovani suddivisi in due gruppi seguono percorsi svolti in parallelo su tematiche adolescenziali. Lo scopo è quello di aiutarli ad orientarsi nel loro percorso di crescita. Durante il primo incontro un gruppo ha riflettuto sul tema dell'empatia e della compassione utilizzando il termometro delle emozioni per capire come ciascuno vive le emozioni in maniera differente e come sia importante rispettare i tempi di ogni persona. L'altro gruppo ha iniziato un percorso base per individuare la differenza tra emozioni e sentimenti utilizzando la mappa delle emozioni per condividere i traguardi che ciascuno di loro vorrebbe raggiungere nel lasso di tempo che arriva all'età adulta. Vi ricordiamo di inviarci i vostri contributi video o anche solo immagini da tutte le parrocchie e realtà della diocesi scrivendo un messaggio whatsapp al numero 339 388 43 42 Vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci al prossimo videogiornale. Vi ringraziamo per l'attenzione